Il pari dell'Ude però va contestualizzato, all'interno di una partita durata oltre 100 minuti in cui è accaduto di tutto, trago sbagliati, espulsioni, perdite di tempo a volte esasperanti e episodi arbitrali contestati da entrambe le parti. In ogni caso l'1-1 fa felice solo il Mori Santo Stefano, penultimo ma il sesto risultato utile nelle ultime sette giornate. Sul sintetico di Sedico è spezzettato e con poco ritmo al primo tempo, dove la Dolomiti fatica a creare situazioni pericolose, salvo in un paio di circostanze con Nunic. Notevoli invece l'approccio della ripresa fino a quando al 59esimo, Caprioni reclama un rigore per questo intervento falloso ai suoi danni in area di rigore. Sfugge qualche parola di troppo all'attaccante di casa e il direttore di gara, lo espelle. Due minuti dopo però la Dolomiti trova da angolo di Marangon la meravigliosa conclusione di Toniolo che vale l'1-0. I bellunesi non sembrano in inferiorità numerica, sfiorano il raddoppio e tirano un sospiro di sollievo quando non viene punito col secondo giallo un fallo di Perez a metà campo. Marangon sfiora il raddoppio in contropiede, calciando fuori tutto solo di fronte al portiere al pagotto Zanon e a metà degli otto minuti di recupero c'è il Dazio da pagare. Al termine di una serie di corner, per Villas legge male un traversone complice anche la spinta di Mendes e Candio di testa fa l'1-1. Una beffa che se non altro non compromette la terza posizione. Partita difficile, partita sapevamo molto complicata, un momento del campionato se vedete anche gli altri risultati sono molto difficili e sapevamo, siamo stati anche, avevamo anche interpretata bene l'episodio lì dell'espulsione, ha un po' compromesso tutto. Scivolata a cinque punti dal Treviso nel giorno in cui cade dopo oltre tre mesi la capolista clodiense battuta a Castegnato, la Dolomiti ragiona ora sulle prossime due trasferte consecutive. Saranno entrambe scontri diretti in chiave playoff, prima a Campodarsego e poi a Bassano.